Ciao a tutti e bentornati a Cosmo Poli Nerd Come potrete vedere dalla mia espressione corrucciata e dalle mie sopracciglia abbassate Sì, Fast and Furious 9 mi ha fatto infuriare Perciò questa non sarà una recensione arrabbiata, bensì una recensione furiosa E poi effettivamente io ho un'attitudine solare, positiva, gioviale, giocosa Non so quanto riuscirà a mantenere l'incacchiatura furiosa in questo video Tuttavia non sfidiamo la sorte perché effettivamente vedere Fast and Furious 9 mi ha fatto cadere quasi tutto quello che poteva accadermi Sapete? A parte i capelli, e meno male perché ci tengo particolarmente a loro Comunque parliamone in questa recensione con spoiler perché per esprimervi tutto il mio disappunto riguardo Fast 9 Devo farvi degli spoiler che poi spoiler praticamente ci hanno già pensato i trailer a spoilerare quasi ogni singola cosa Ma ne parleremo meglio nel corpo di questo video, sapete? Come parleremo molto bene anche dell'assenza di quest'uomo qua alle mie spalle Sì non c'è The Rock e non ci sarà mai più Ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare ovvero iscrivervi al canale YouTube di Cosmopoliner Cliccando su tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima E se volete supportarmi oltre che sopportarmi trovate un sacco di fantastici modi in descrizione a questo video Sì come la meravigliosa piattaforma Ko-fi, la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo E andate a scoprire in descrizione che cosa vi garantisce il mio codice personale COSMO su Pampling, sito di magliette e articoli nerd Non resterete delusi, no? Come non resterete delusi da The Rock Ciancio alle bande e sigla, The Rock Voglio essere completamente onesta con voi Prima di Fast and Furious 5 non me ne ho mai fregato una mazza di questa saga di film dove c'erano dei tizi che guidavano delle macchine più veloci di altri A me non piacciono le macchine, non adoro particolarmente la velocità E quindi perché avrei dovuto essere attratta da questa tipologia di film? Infatti non lo ero affatto Poi che cosa cambia con Fast and Furious 5? Beh, arriva The Rock The Rock che io amo alla follia, se mi conoscete lo sapete, se non mi conoscete lo notate dal fatto che ce l'ho qua dietro in versione cartonato da viaggio Ecco, da lì ho cominciato a diventare fan della saga Di questa saga che ha cominciato ad allontanarsi molto da com'era alle origini, appunto solo corse di macchine clandestine Ed è diventata sempre più simile a Mission Impossible Con queste persone, che dovrebbero essere persone normali, non super soldati Alla Steve Rogers che affrontano robe sempre più assurde, sempre più pseudo spionistiche, sempre più what the Insomma, siamo arrivati con Fast and Furious 7 e Fast and Furious 8 a toccare delle cime di meraviglia, trash assurda Veramente incredibile E quindi effettivamente, essendo io un amante del trash zarro Capite che di fronte a Fast and Furious, com'era diventato, non ho saputo resistere E mi sono follemente innamorata Visto appunto che The Rock sembrava impegnato nel filone spin-off di Fast and Furious, OBS e in show E che quindi nel nono film di Fast and Furious non ci sarebbe stato Ma sembrava che poi sarebbe tornato per il decimo e poi undicesimo film Ho detto, vediamo un po' come questo Fast and Furious 9 senza The Rock viene di fronte al mio cuore Oppure diventa una noia mortale Insomma, per me questo Fast and Furious 9 è una noia mortale Ma non perché non c'è The Rock Perché, ripeto, secondo me è una noia mortale, punto Ma non rispetto ai capitoli precedenti, al capitolo 7, al capitolo 8 che sono strepitosi No, 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 a prescindere da tutto A noia tantissimo Fast and Furious 9 sembra durare 15 ore Come praticamente tutta la saga di Fast and Furious fino a quel momento lì messo assieme Per me al cinema è stato veramente difficile guardarlo fino alla fine Che poi, meno male che sono rimasta fino alla fine Perché il momento migliore del film è stata appunto la scena mid-credits Con Deckard Shaw interpretato sempre straordinariamente bene da Jason Statham Perciò capite che c'è qualcosa che non va Se la parte migliore di un film sta dopo la fine del film, no? Quindi eccomi qui per spiegarvi, con spoiler Perché Fast and Furious 9 non funziona, secondo me E certo, in questo video ci saranno tantissime opinioni personali Ma anche qualcosa di oggettivo E se non siete d'accordo con la sottoscritta Beh, non disturbatevi a scrivermi nei commenti cose tipo questa Perché intanto non stiamo a fa' Kubrick Stiamo a parlare di Fast and Furious Perciò, mi raccomando, non usciamo fuori dal personaggio Facendo finta di essere critici cinematografici de se Ok? Che ne dite? Bene Secondo la sottoscritta La prima grande problematica di Fast and Furious 9 Che lo rende un film non funzionante E' il suo essere troppo serioso E aggiungo, oltre a essere troppo serioso Anche troppo Toretto centrico Che se ci pensate Toretto, Dominic Toretto Il capo di questa mega famiglia Che è diventata quella di Fast and Furious Non è mai stato un personaggio brillante È sempre stato l'anima seria? No, l'anima seriosa della saga Per quello che quando è entrato un personaggio come The Rock Che ha portato una tipologia di umorismo un po' diversa Rispetto a quella che c'era stata fino a quel punto lì All'interno della saga di Fast and Furious Si è respirato un po' di aria nuova No? Ecco Rimangono Tej e Roman che fanno le battute demenziali Manca tuttavia all'interno di Fast and Furious 9 Il portato ironico, sarcastico, umoristico Un po' trash, chiaramente Malatoni sta parlando sempre di Fast and Furious Ricordiamocelo dei personaggi di Hobbs & Shaw Che l'hanno concentrato tutto nello spin-off E sapendo, sapendo con certezza ormai che The Rock non tornerà mai più All'interno del filone principale della saga di Fast and Furious Ma invece tornerà a Deckard Shaw e meno male Io non lo so sinceramente che cosa aspettarmi dal futuro Perché dopo i capitoli meravigliosi che sono stati il 7 e l'8 Vedere un 9 così sottotono Così assurdamente serioso E' un po' come se con questo nono capitolo della saga di Fast and Furious Avessero deciso di fare sul serio Ma nel senso di andare sul serio Del creare un vero film Quando in realtà Fast and Furious non deve essere un vero film Deve essere un mega straordinario parco giochi Di robe trash, zarre, spettacolari, epiche, paradossali, assurde Con cui baloccarti dall'inizio alla fine della pellicola Non ci devi trovare un senso Non te ne frega niente della caratterizzazione dei personaggi Vuoi ridere Vuoi restare abbagliato dalle trovate spettacolari Che si sono inventate gli autori e il regista Quello si vuole Si vuole intrattenimento allo stato puro Spegnere il cervello Non farti domande sull'attendibilità fisica Di ciò che sta accadendo di fronte ai tuoi occhi E' questo che si chiede da Fast and Furious Ed è questo che è stato almeno fino al capitolo 8 Invece col 9 Incentrando tutto il dramma Perché è un dramma il capitolo 9 Non perché non funziona Perché vuole essere tale Sulla famiglia L'importanza della famiglia Ma non come concetto zarro Come è sempre stato la famiglia No, la famiglia vera e propria Di Dominic Toretto Diciamo si alzava decisamente La sticella delle potenzialità E delle possibilità di questo capitolo Tuttavia alzando anche il rischio Della riuscita di tale drammaticità Di tale approfondimento dei personaggi E delle dinamiche tra di loro Certo il fatto che si parlasse ormai Così come un disco rotto di famiglia Ti faceva chiedere Ok va bene la famiglia Ma qual è la vera famiglia di Dominic Toretto Abbiamo conosciuto la sorella Abbiamo conosciuto il figlio Beh qua conosciamo il padre morto Conosciamo anche John Cena John Cena il fratello di sangue Di Dominic Toretto Con cui ci sono un sacco di problemi Si odiano Perché Toretto pensa Che sia lui il responsabile Della morte del loro padre Quando in realtà non lo è Quindi un altro possibile approfondimento Del personaggio di Toretto Che appunto alzava l'asticella Ma diventava anche qui Un grandissimo rischio Nel caso in cui avessero cannato Questo aspetto Sta nel mostrare Un Toretto fallibile Perché fino alla fine Del capitolo 8 di Fast and Furious È sempre stato Un Toretto infallibile Un Superman Non solo che si lancia Che so da grattacieli Con una macchina Senza farsi un graffio Cioè prende 10 miliardi di botte In ogni modo E non c'è neanche una gocciolina Di sudore sulla fronte Ma era soprattutto infallibile Da un punto di vista di valori Di morale Di etica Sando insomma l'etica Che alleggia in Fast and Furious Cioè era colui che capiva le persone Prima ancora che le stesse persone Potessero capire loro stesse Era un radar umano Incapace di sbagliare Invece in Fast and Furious 9 Vediamo un Toretto Incredibilmente fallibile Quanto tempo Dom Quindi capite quante potenzialità Aveva un film come il capitolo 9 In grado di inserire un sacco di elementi Da vero film all'interno del franchise Che avrebbe anche potuto stravolgere O cambiare Anche soltanto in parte Una formula che già sapevamo vincente Per renderla migliore Per renderla più ben fatta Per renderla più Artistica Adesso sto cominciando a usare Delle parole un po' esagerate Mi rendo conto Toretto Che ci azzecca sempre Toretto Che è perfetto nel gestire La famiglia che si è creato Ma non è in grado Di riuscire a combinarne una giusta O i membri della sua vera famiglia Quella di sangue No? Cioè Una bomba Una bomba Ok Peccato che sia una bomba Nelle intenzioni Ma appunto Fast and Furious Sia destinato ad essere Un franchise di Splendide Meravigliose Ma pur sempre Baracconate Perché O che Le persone Addette ai lavori Non sono state in grado Di portare avanti In maniera corretta E in maniera Seria Non soltanto Seriosa Le premesse Le potenzialità Che vi ho elencato Fino adesso Oppure ad un certo punto Hanno deciso di sbatterse Nei cojones Che Secondo me Dovrebbe esserci E sto scherzando Chiaramente Un girone infernale Dedicato agli sceneggiatori Hollywoodiani Che sanno fare le cose Ma non le fanno Perché sono pigri O perché quel giorno lì Non gli va Perché È così Punto E quindi È questo il grande problema Di Fast and Furious 9 Oltre al fatto di essere Troppo Toretto centrico Cioè si parla Solo ed esclusivamente Di Toretto C'è tutta quella scena Di premorte No Quella scena Alla zio Benjen Vedi Game of Thrones Con Toretto Che poteva tranquillamente Salvarsi assieme agli altri Invece decide Di chiudere una porta Non utilizzare Il tempo Che avrebbe avuto Per scappare E affrontare I nemici Morendo Affogando C'è tutta appunto Quella di Vi dicevo Quella scena Così C'è Boh Lui vede cose Lui che si fa i viaggioni Chiaramente Non morto Ma lì Per scomparire E che Non è supportata Né dalla scrittura E tantomeno Dalle capacità interpretative Di Vin Diesel Che quando interpreta Dominic Toretto Cioè mi sembra di guardare Una parete bianca Oltre alla troppa seriosità Oltre all'essere Eccessivamente Toretto centrico Perché per quanto sia Un personaggio forte Toretto Non è più Abbastanza forte Per reggere Tutto un film Di Fast and Furious Esclusivamente Su di sé L'altro problema È la scrittura Come vi dicevo La scrittura Che procede In un modo All'interno di Fast and Furious 9 Decisamente Troppo sciatto Non gliene frega la mazza Proprio Non è curata Non è ispirata Pensate anche A tutte le scene Incredibilmente epiche Che ci sono state Negli scorsi film Pensate Cioè io amo Nel cuore Tantissimo L'evasione Di Hobbs È in show Nell'otto I car armati Per strada L'auto Guidata da Toretto E Paul Walker Salutiamo Tra l'altro Il nostro carissimo Paul Walker Sempre nei nostri cuoricini Forever and ever E nell'episodio 7 L'auto tra un grattacielo E l'altro Cioè ci sono stati Dei momenti Di un epico Ma incredibile Ma anche epico Diciamo più Da ridere Cioè vedi Jason Statham Che deve salvare Il figlio di Toretto E gli mette Le cuffiette Con la musica per bambini Mentre lui uccide Tutti sull'aereo O anche Hobbs Che finisce in ospedale Spacca il gesso E va a tirare giù Un elicottero Con un Un'arma Non mi ricordo più Enorme Da notare che aveva Un braccio mezzo rotto Fino a un momento prima O sempre The Rock Con la partita Di calcio Della figlia Ci sono un sacco Di momenti Fili all'interno Di Fast and Furious Ma veramente Ma più ci penso Più mi vengono in mente Scene assurde Scene epiche Scene spettacolari Scene che era Una goduria Vedere Anche se non te ne fregava Una mazza Di auto E zarri E velocità Ecco Qual è stato L'espediente Spettacolare Di Fast and Furious 9 Il magnete Il magnete Che lo vedi Utilizzato Sulla macchina Di John Cena Quando scappa Per la prima volta E gli dici Ah carino Poi però Tutto il film Costo per dinci Baccolina Di magnete Basta E' come se avessero avuto Solo un'idea E l'avessero tirata Per le lunghe Per tutto il film All'infinito Perché non avevano voglia Di sbattersi abbastanza Per tirare fuori Qualcos'altro Qualcosa di nuovo Qualcosa di un po' più Interessante E spettacolare Poi tra l'altro Con tutte quelle macchine Addosso E respinte Così C'è anche le scene action Con le macchine Distrutte Mi sono sembrate Molto più caotiche E noiose Rispetto a ciò Che abbiamo visto Prima di Fast and Furious 9 Ma anche Sciatteria No? Va bene Fast and Furious Non è assolutamente Un film Vero e proprio Non è da considerare tale Più che altro Come un lungo divertissement Ecco Tuttavia Per quanto La trama E la coerenza Della trama Non sia La preoccupazione Principale Dei creativi Alla base Di Fast and Furious Un minimo Ci deve essere Cioè Non è che La fidanzata di Toretto E la sorella di Toretto Si vanno a fare un giro A Tokyo Così Perché trovano Una cartolina Mandata Da un amico Del passato Arrivano lì Arrivano a Tokyo Stanno cercando Un qualcosa Che richiami Il Messico Vanno In un ristorantino Ordinano Entrambe Il ramen Sono lì Che lo spiluccano Parlando di quanto Sia terribile La vita Attorno a Dominic Toretto E proprio In quell'angolo Microscopico Della enorme Tokyo Trovano una bandiera Del Messico Senza aver girato Un minimo Senza aver esplorato La città Per Che so Mezz'ora No Sono lì Che si ciucciano Il loro cacchio Di ramen E guarda caso Proprio Da quel tavolino Lì a cui si sono sedute Una splendida Visuale Su sta Perdinci Baccolina Di bandiera Del Messico Che stavano cercando Poi un altro Spunto Che avrebbe potuto Essere interessante Fino a un certo punto Badiamo bene È Ramsey La tecnica Del computer Hacker Eccetera Eccetera Che non sa guidare E che si trova In una situazione Di emergenza A doverlo fare Ok Anche quello È stato carino Ma basta È diventato Troppo lungo Come ogni singola Trovata all'interno Di Fast and Furious 9 Come se avessero Voluto diluire Un brodo Già poco Saporito In partenza E peccato Più grave In assoluto Per quanto riguarda La sciatteria Della scrittura Sta nella risoluzione Del conflitto Toretto John Cena Tra l'altro John Cena Incredibilmente Espressivo Rispetto A Vin Diesel Beh Credo che Anche il cartonato Di The Rock Sia più espressivo Rispetto A Vin Diesel Se mi permettete Come vi dicevo Un qualcosa di interessante No? Il fatto che Toretto Sbagli Sbagli solo ed esclusivamente Con la sua famiglia biologica Ok Un conflitto decisamente Risolto Male Perché? Per dare Quell'intensità Che ha sempre avuto Il personaggio Di Toretto Che cosa sarebbe dovuto Succedere Lui Che si rende conto Di aver sbagliato Col fratello Perché scopriamo Che in realtà Il fratello Ovvero John Cena Non ha fatto niente Per uccidere il padre È semplicemente successo E non è colpa sua E quindi tutte le idee Tutto l'astio Che Toretto Figlio grande Ha provato Per il fratello minore È stato tutto sbagliato Avrebbe dovuto Culminare Tutto questo conflitto In Dominic Toretto Che dice al fratello Mi sono sbagliato Tu sei la mia famiglia E si dovevano abbracciare Non è successo niente Di tutto ciò Toretto E Toretto Tornano assieme E amici Nel senso Amici fraterni Letteralmente Perché semplicemente Il tizio Otto Mi pare Con cui collaborava John Cena Tradisce John Cena Costringendolo dunque A collaborare Col fratello Perché si ritrovano In questa situazione qua Ma è Una risoluzione Del conflitto Su cui si è incentrato Tutto il film Assolutamente Passiva Passiva Per il personaggio Di Dominic Toretto Quando lui è attivo In ogni singolo aspetto Della sua esistenza Ma che è Sta roba Ma che è Sta roba C'era una cosa Interessante Che avete tirato Alle lunghe All'infinito E non siete neanche Riusciti a risolvere In una maniera Decente E in linea Col personaggio Di Dominic Toretto Che abbiamo conosciuto Finora Da quando Dominic Toretto Subisce Le decisioni Prese dagli altri Da quando Dominic Toretto Subisce Punto E infine Oltre ad essere Troppo serioso E Toretto centrico E troppo sciatto È anche stato Troppo spoilerato Sto film Capisco che ci sono stati Dei problemi con le campagne Marketing Visto Insomma La pandemia Il covid Eccetera Eccetera E i ritardi enormi Che hanno subito Le release Di alcuni film Tra cui Fast and Furious 9 Però se andate a vedere Il film è rilasciato Mi pare a gennaio del 2020 E quello di qualche mese fa Vedete tutto il film Tutto il film E soprattutto Tutte le scene Che se non spoilerate In precedenza Sarebbero risultate Quelle veramente Epiche del film Epiche Poi alla fine Ci sarebbero state Solo quelle Perciò comunque Sarebbe stata una delusione Lo stesso Questo Fast and Furious 9 Però un filo meno Capisco che è stato Difficile per tutti Gestirsi in questa situazione Ma mi volete dire Che era impossibile Non spoilerare Tutto il film Nei trailer Da considerare Che tutte le cose Più importanti E spettacolari Erano state già spoilerate Nel primo trailer A gennaio 2020 Quando il covid Da noi Non era ancora arrivato Quindi non è che ci sono Tante scusanti A riguardo Vi dicevo Tutte le scene migliori O divertenti O spettacolari Sono state spoilerate Il ritorno di Han Il ritorno di Cypher Ramsey che non sa guidare Il magnete Che fa volare La macchina Di John Cena E soprattutto Toretto che cerca Di volare Anche lui Con la sua macchina Con il ponte Saltato E quindi Si aggancia Quella corda E fa volare La macchina Ecco Pure quello Poi Toretto che Affoga Tra virgolette Che rischia la vita Toretto che si butta Dal camion Che rotola Che era rotolato Precedentemente Con lui Dentro giù Dalla montagna Si butta dal camion Che cade giù E quasi esplode E lui niente Non si fa neanche Minimamente un graffio La macchina nello spazio Helen Mirren Che fa le derappate E pure Toretto con l'Apolo Cioè ditemi Se questo non è uno Dei momenti top Di Fast and Furious 9 Toretto con l'Apolo Cioè veramente Sembrava Un signorino di Oxford Quasi di Cambridge Da quanto era Nonocci Soprattutto Hanno spoilerato Forse La cosa più interessante In assoluto Di tutto il nono capitolo Di Fast and Furious E sapete qual è Tutta la riflessione Meta narrativa Che ad un certo punto Comincia a fare roman A tutti gli altri personaggi E chiaramente lo prendono Per uno scemo Come al solito Però in realtà È una trovata interessante Non particolarmente brillante Però vi dicevo Interessante Che è già tanto All'interno Di un francesco Come Fast and Furious Lui che prende Il giubbotto antiproiettile E fa vedere I fori Del giubbotto antiproiettile Tuttavia Nessuno è rimasto ferito Nonostante Il giubbotto antiproiettile Sia stato perforato Dai proiettili Quindi qualcuno Almeno Se non ferito Morto Avrebbe dovuto Esserlo Si gioca tantissimo Sulla presunta Invulnerabilità Dei personaggi Di Fast and Furious Perché da un certo punto In poi Nella saga Abbiamo cominciato Tutti a chiederci Come potessero essere Ancora vivi Visto tutto Quello che hanno affrontato Cioè Anche tipo Dominic Toretto A cui cade un palazzo Addosso E lui non si fa niente Quindi Tutta questa riflessione Potenzialmente Molto interessante E anche figa Dai adesso Sono in vena Di fare complimenti Spropositati E sproporzionati A Fast and Furious 9 E' stata spoilerata Nei trailer Ed è stata Tra l'altro Risolta All'interno di Fast and Furious 9 Della serie No Non siamo così invincibili E che siamo solo Esclusivamente fortunati Ma cos'è sta cazzata Ma cosa vuol dire La volta che Che vi mettete In maniera ironica E intelligente A riflettere Sui vostri prodotti No eh No Quindi che dire Fast and Furious E' stata Da un certo punto in poi Una saga Che ha sempre utilizzato Con consapevolezza Intelligenza E anche autocompiacimento Ma ci sta La zarraggine trash Di cui era Portatrice Portatrice Orgogliosa E che noi Guardavamo Con un folle divertimento Assolutamente Adesso Nel momento in cui Comincia a riflettere Su se stessa In maniera Più o meno Meta narrativa Fallisce Quasi Su tutta la linea Quindi Per me Come avrete capito Da questa recensione Furiosa Fast and Furious 9 Non funziona E dal punto di vista Dell'intrattenimento Che dovrebbe essere L'interesse principale Di tutti coloro Che sono dietro A Fast and Furious Fallisce Ma fallisce Rumorosamente Se questo video Abbastanza polemico E dirai furioso Quindi Le promesse iniziali Credo di averle mantenute Vi è piaciuto Esattamente come piaciuta De Rock Allora dovete fare sempre Le solite cose Ovvero mettere mi piace Lasciare un commento E iscrivervi al canale YouTube di Cosma Palinard Attivando anche la campanella Delle notifiche Ovunque essa sia Che è sempre una cosa importantissima Altrimenti Dominic Toretto Senza di me Non sei nessuno Ciao 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 Grazie.